Buongiorno, sono Sergio Bizzarro, ho il piacere di essere a Arc Marathon, è un'iniziativa veramente che trovo stupenda, questo travaso di sé e questa energia che c'è all'interno di questi spazi permea tutto, conosciamo come si comportano e come si muovono gli architetti degli altri paesi una cosa meravigliosa, veramente. Sono Cinzia Guisola, studio Scacchetti, Arc Marathon, un'occasione inventata in un modo eccellente con una qualità di progetti straordinaria, penso che questo format sarà un format vicente che verrà tentato di essere preso da qualsiasi altra nazione. Sono Luca Scacchetti, dello studio Scacchetti di Milano, questa iniziativa mi sembra che abbia dei caratteri abbastanza di straordinarietà, di straordinarietà per il panorama italiano, innanzitutto perché è internazionale, ma internazionale in senso vero, non prende i grandi archistar che ormai sono anche troppo macinate, ma prende un'architettura media diffusa in tutto il mondo, selezionata e mostra che in questa architettura media c'è una vitalità straordinaria. Si riparla di architettura dopo tanto tempo perché ognuno illustra il ragionamento che ci dita il progetto e questo lo trovo veramente magico e di grande crescita futura. Sono Paolo Pampanoni, sono architetto, mi occupo di design, sono venuto ad Archimaraton per capire cosa fanno i nostri colleghi nel mondo. È molto bello tutto, è bello anche il taglio dei progetti, non ci sono cose lontanissime da noi, ci sono delle belle architetture anche piccole e molto vissute, sono tre giorni penso molto positivi che mi porterò dietro nel lavoro.